Alle segnalazioni possono essere associati dei documenti. La scheda documenti apparirà in ogni caso, sia che si inserisca un'osservazione diretta, un'osservazione di tracce o un ritrovamento di prede. Le caselle di spunta presenti nel riquadro grigio a sinistra permettono di indicare a quale delle tipologie di osservazione si riferisce la documentazione in possesso. Ad esempio, per quanto riguarda l'osservazione diretta appena inserita, esistono dei filmati e video e questa informazione può essere aggiunta alla documentazione. Analogamente, è possibile aggiungere informazioni sull'esistenza di tutti gli altri documenti relativi all'osservazione di tracce e ritrovamento di prede con l'inserimento, ad esempio, di foto o diapositive. Una volta aggiunti, i documenti appariranno nella tabella a destra. La tabella apparirà inoltre anche nelle maschere principali di riferimento. La tabella apparirà inoltre anche nelle maschere principali di riferimento di riferimento di riferimento di riferimento.